Si svolgeranno domani i funerali delle tre vittime dell'esplosione della fabbrica pirotecnica Paolelli avvenuta a mercoledì scorso a San Donato di Tagliacozzo, comune nel quale oggi è stata allestita la Camera Ardente. Per le esequie il sindaco Maurizio Di Marco Testa ha proclamato il lutto cittadino. I funerali di Valerio Paolelli, 37 anni, figlio del patron dell'azienda Sergio, saranno celebrati alle 14.30 nella chiesa del Santissima Annunziata di Tagliacozzo. Quelli di Antonello D'Ambrosio, 33 anni, di Brocco Stella, in provincia di Frosinone, nella frazione Petrella Liri di Cappadocia, dove risiedeva, mentre le esequie di Antonio Morsani, 47 anni, a Rieti, sua città natale. Le cause della devastante esplosione nella quale erano rimasti feriti altri tre operai sono ancora da accertare, anche se si ipotizza un incauto maneggio nel miscelare le polveri piriche. Bisognerà pertanto attendere il lavoro dei periti, tra cui un monobalistico, nominati dal procuratore di Avezzano Maurizio Maria Cerrato. Il magistrato per ora ha aperto un fascicolo a carico di Lorenza Mattei, titolare dell'azienda di fuochi d'artificio, moglie di Sergio e madre del povero Valerio. L'accusa è di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. L'azienda, stando anche alle dichiarazioni del sindaco, era più che sicura, aveva tutti i documenti in regola e l'ultima ispezione risalirebbe al 2013.